Sono parecchio incazzato e voi vi chiederete Menzo sei sempre incazzato, sei sempre con i cazzi girati Si dice così nel mio paese Ebbene si perchè non mi hanno tolto non uno ma ben due video della Juventus Si dove festeggiavo insieme a voi la vittoria della 14esima Coppa Italia E ha vinto della Juventus due giorni fa contro l'Atalanta 2 a 1 Ed era molto importante festeggiarlo con voi Cosa è successo? Img Media Limited forse per la partita Mi ha bloccato il video ma non solo il video originale Ma anche il ricaricato che sarebbe questo qui che vi ho fatto vedere Quindi amici volevo dire che non è giusto che a me mi blocchino i video così Quando ci sono i peggio video su internet E allora non bloccano un cazzo scusate Cioè da quando in qua io ho fatto un video tranquillo Cioè No io vorrei dire Perché? Solo perchè mi è stata la partita? Cosa c'è? E poi nemmeno ci guadagno io cazzo Nemmeno ci guadagno con questi video Cazzo ma le hai bloccate? Ma siete dementi? Cioè nemmeno ci guadagno ci guadagnassi qualcosa Non ci guadagno un cazzo Perchè per guadagnare qualcosa al minimo deve avere mille iscritti Siccome io c'ho 166 vi ringrazio Lo dico sempre in quasi ogni video Non ci guadagno niente Quindi questo bloccaggio di video Proprio non capisco il perchè Perchè ho mostrato la partita Non la mostro più Perchè ho mostrato il risultato Ma il risultato cosa cazzo c'entra? Perchè ho mostrato la Coppa Italia Lo stemma Quale stemma della UEFA Della Champions League Di cosa? 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 Il logo della Juventus Perchè C'è tutte le cose Sono tutte coppa adattate Io non credo che sono tutte coppa adattate La Rai sarà coppa adattata La partita Ma questo nel video cosa mostro? Mostro un articolo Cavolo Mostro una vittoria della Juventus Ora mi venite a rompere i coglioni Sotto i miei video Bloccandomeli I due per giunta E vi ho caricato l'originale Che io per giunta Se lo ricaricassi di nuovo E censurassi il logo Della Rai Me lo bloccherebbe Proprio una terza volta Ma si Significa Farsi bloccare un video Una terza volta Significa Farsi fare uno strike Al canale Che io non voglio Quindi amici Mi dispiace per voi Ma il video Sulla Juventus Questa sulla Coppa Italia Non lo potrete vedere Ma questo sarà il sostitutivo Del video Che ho fatto Sulla Coppa Italia Quindi sarà una specie di sostitutivo Che fare insieme a voi Che spero vi piaccia E quindi Siccome questo Già c'era la cronologia di Google Salvato Oggi andiamo a cercare I risultati E poi I record Che abbiamo raggiunto Con la Juventus Allora Il primo record Che Se non sbaglio Dovebbe essere qua Se la trovo Ma Neanche c'è Comunque No Non era questo Ma era Ma Mi si è levato tutto Vabbè Lo cercò io Juve Atalanta Che è la prima cosa E non le immagini Ma Tutto Perché Signori L'altro ieri Di sera No La partita non la guardiamo Di sera 2 a 1 Abbiamo assegnato Kuluseski E Chiesa Kuluseski al 31 E Chiesa al 33 Sono veramente felici Di questa Coppa Italia Di questo traguardo Perché siamo A ben 64 trofei 64 ballo 69 trofei vinti In questi In questi anni In questi 24 anni Abbiamo vinto 26 trofei Sono veramente felice Ma anche triste Da una parte Perché come vi siete visti In il mio scorso video Di Gigi Buffon Praticamente Questa è stata L'altro La sua ultima partita E vorrei Condividere Questo pensiero Con voi Voi cosa ne pensate Se Buffon Andrebbe a giocare Col Barcellona Per me sarebbe Una cosa Perché innanzitutto Barcellona Sarebbe Una squadra Che io simpatizzo Molto E il mio giocatore Preferito Come sapete Anzi Se non lo sapete È Proprio Messi E poi Perché Proprio per Messi Vedere Messi E Buffon Giocare Insieme Sarebbe Una cosa Bellissima Visto che già Buffon Ha giocato A livello Europeo Con il PSG Sarebbe Bello Il Paris Saint Germain Sarebbe Bello Vedere La Barcellona Perché Perché no Tanto Ormai Conoscono Tutto Il livello Internazionale Mondiale Di Gigi Buffon Quindi Perché non Vederlo In un altro Club europeo Di fama Europea E anche Internazionale Perché Fa parte Della Spagna E la Spagna È una nazionale Calcistica Riconosciuta In tutto il mondo Cioè Non è tra una Di quelle più forti Perché la più forte È l'Italia Il Brasile Ma dico È una delle più forti Perché il Brasile Ha vinto 5 mondiali L'Italia 4 E poi c'è Un'altra squadra Un'altra nazionale Che ha messo Antipatica La Francia Anche a molti Di voi Però raga Voi sapete Cosa significa Avere Gigi Al Al Barcellona C'è Un bel traguardo Comunque Dopo Al Barcellona La sua carriera Sarebbe finita Almeno Finisce bene Poi un altro Algomento Che vi volevo parlare E ora Andiamo a vedere Anche il record Della Juventus Volevo parlarvi Anche Di Della partita Del 30 maggio La partita Del cuore Dove praticamente Questa partita Saranno convocati Diversi giocatori Cantanti Persone Famosi Che giocano a calcio Tipo Per esempio Hanno annunciato Gianni Morandi Con il numero 10 Forse Dunque Che pensate voi Sarebbe bello Vedere anche Del Piero Che gioca Se lo fanno giocare Sarebbe troppo bello Vederlo in squadra Poi A parte il fatto Che ha ricevuto La maglia Della Juventus Prima di tutti Quella nuova Però Sarebbe bello Se giocasse anche lui Il 30 Così Almeno Ci farebbe rivivere Qualche Qualche cosa Cioè Non concordate anche voi Ora Basta Perderci in chiacchia Andiamo a vedere Il record E dopo Concludiamo Questo fantastico Video Peccato Per quei due Video Bloccati Mi è preso Un colpo Al cuore Perché Non pensavo Che la tv Fosse così Crudele Da far bloccare Un video Con 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 il cuore Per la squadra Squadra del cuore Ha un piccolo Canale youtube Da 300 iscritti Che non vale Tantissimo Ho capito Mi conosco Un po' Mi conosco Cioè Devo dire Che Grazie a voi Sono diventato Un po' Un qualcuno Però Non è giusto Non è giusto Non è giusto Poi per giunta Ha Un canale Che porta Contenuti Sempre Quasi ogni giorno Diversi contenuti Che intrattiene La gente Deve ricevere Cosa Due Due copyright Perché Non lo capisco Non lo capirò mai Come funziona youtube Come funziona tiktok Perché tiktok pure Blocca video A cazzo di cane Quindi non lo capisco Juve Record 102 punti In serie A Poi Tutti i record Dei 9 anni Dal dominio Della Juventus In serie A Poi Lo stando record Della Juve In 24 anni 26 titoli In 24 anni Leggiamo questo Lo stando record Della Juve Negli ultimi 24 anni 26 titoli In Italia Nessuno in Europa Secondo un approfondito Studio statistico Negli ultimi anni La Juventus Ha conquistato Ben 26 titoli A livello nazionale Non riuscendo Però ad imporsi In alcune competizioni Internazionali Allo stesso periodo Negli ultimi 10 anni La Juventus Ha vinto Praticamente tutto Il successo Dell'Atalanta Nell'ultima finale Di Coppa Italia Permesso Alla scuola bianconera Di aggiudicarsi Questo torfario Per la quarta Dicesima volta Confermando così Il primato assoluto Di vittorie totali In questa manifestazione La Juventus In precedenza Era diventata La prima scuola In Italia A vincere Contemporaneamente Scudetto E Coppa Italia Per quattro stagioni Suggestive Avvocati Quattro stagioni Quattro stagioni Come aggiungere Come aggiungere Tre titoli minori Era successo In passato Se consideriamo Le ultime 10 edizioni Serie A Coppa italiana E Supercoppa italiana Dobbiamo mettere Il risalto Che il fatto Che la Juventus Abbiamo fatto In 19 occasioni Delle 30 Di spedizione Il 63% Del casito totale A fare Da contrattare Questa statistica C'è il dato Che riguarda I successivi Internazionali Contenuti Dalla Juventus Negli ultimi 24 anni Totalmente Inesistenti Visto che L'ultimo titolo Extra nazionale Di rilevo Conquistato Di bianconeri Sale alla Supercoppa Europea Vinta Il 5 febbraio 1997 In finale Contro il Paris Saint Germain Successivamente La squadra juventina Sempre a livello Continentale Ha perso Quattro finali Champions League Nel 98 2003 2015 2017 Deminizzata anche Il fatto Che in passato La Juventus Non avesse mai Vissuto una Sidenza di vittoria A livello Continentale Così lunga Il precedente Prima dato negativo Infatti apparteneva Al periodo Che andava Dal 1958 Al 59 Anno in cui Prese parte Per la prima volta La Coppa Campioni Al 76 Al 77 Sagione in cui Si pose La Coppa UEFA Allora Questo qui L'ho letto Questa parte E qua Va bene Ci vediamo Le immagini Per finire In bellezza Questo video Speciale Ehm Io spero Amici Che questo video Si è piaciuto Nel caso Vi cedete Like E iscrivete Al canale Ehm Mi hai messo Come Enzo Tino Basso Gamert No Enzo Tino Basso Gamert Tino Basso 9z Sticker Rock Mi trovate Come Enzo Rizzo Gamer Tino Basso 9z X E ho fatto Nuovo Video E capitaz Zubasa Itavs4 E su Facebook Enzo Rizzo E Captain Zubasa Zero Ita Saluto Ci becchiamo Al prossimo Video Bella